Il mio desiderio è di fare arrivare ai spettatori Struc l'odore, la consistenza, il savor del nuovo cinema porno furlano e delle stelle più luminose Il faione di Tarcindio, scena 32 climat Man di frizze io sono venuta da di mezzo con venti anni Guarda tu sei la locomotive e domani puoi essere il wagon di una banda oidi di male per via dal petiasse dai rapporti promiscuosi da cimenti buttati via Prima volta lei che vieni, come vieni basta vieni perché il verde cal è ancora di più tanto di più Hollywood, Los Angeles, California